Con il numero di maggio di quattro ruote, gli appassionati di storia dell'auto e in particolare delle lancia hanno un'occasione unica. Per soli 3,90€ in più c'è il volume Q Collection, dedicato alla Casa Torinese, un libro di 384 pagine molto speciale. Dagli archivi del nostro giornale sono uscite le pagine più belle dal 1956 ad oggi, una collezione degli articoli più belli pubblicati in quasi 60 anni di storia. Le prove su strada con i campioni del volante come Emerson Fittipaldi, le copertine di quattro ruote e gli indimenticabili successi nelle corse. Da Sandro Munari a Jean-Claude André, che vinsero il mondiale con la Stratos, all'analisi puntuale dei modelli di serie, dalla prima prova su strada della Lancia Appia al marzo del 2011, quando pubblicammo l'ultima versione della Ypsilon a 5 porte. Per un mar che è nato nel 1906 e che ha quindi superato di slancio i 100 anni di vita, ce ne sono di storie da raccontare. Quattro ruote Q Collection, con gli articoli più belli del nostro mensile, è in edicola insieme a quattro ruote di maggio per soli 3,90€ in più.